Sì, ci siamo lasciati qualche ora fa, ci rivedremo fra qualche ora perché giocheremo domenica con la Sicola Leonza alle 14.30, 48 ore dopo, per cui è vero, è tutto ravvicinato, ma anche dalla preparazione di questa rifinitura, della partenza perché fra qualche minuto dovremmo partire per il ritiro a Lecce, è qualcosa di velocizzato, però dobbiamo essere bravi, dobbiamo essere attenti, concentrati, dobbiamo centrinare le energie perché sappiamo di essere in difficoltà soprattutto nelle assenze, in un reparto nevralgico del campo, è tutto diverso, tutta una situazione anomala in cui siamo chiamati ad essere veramente, a fare gli straordinari e devo dire ho visto molta applicazione. Io ho visto i numeri, dicevo ai ragazzi, non parliamo di numeri del Lecce perché in tre Caturano, Di Piazza e Saraniti hanno fatto un gol in più di tutta la nostra squadra, 28 gol e ne abbiamo fatti 27 dall'inizio del campionato, basta questo dato per spaventarci? No, ci siamo guardati, sicuramente sappiamo che è una prova particolarmente difficile, però ci dà la possibilità di giocare in uno stadio importante contro una squadra che è meritatamente al primo posto in classifica e quindi abbiamo tanta possibilità di metterci in mostra. Sicuramente dobbiamo controbattere le loro grandi qualità tecniche e di curriculum con quelle che sono le caratteristiche di cui parlavamo a fine partita domenica. Quel cuore, quella determinazione, quella compattezza di squadra, quell'aiuto reciproco, quella attenzione tattica e poi giocarci quelle chance che probabilmente ci capiteranno. Sì, sì, ma noi non possiamo prescindere da una grande applicazione in questa gara, quindi sicuramente andiamo ad incontrare un organico, come dicevo prima, fuori dalla norma per questo campionato, vado ad incontrare anche due miei ex calciatori come Cosenza e Di Piazza e addirittura Di Piazza sta giocando pochissimo, probabilmente sarà degli undici titolari proprio domani. Ci sono tanti, tanti motivi perché noi affrontassimo e affrontiamo domani il Lecce con grande piglio, con grande impegno, con grande determinazione, con anche la consapevolezza di essere in crescita perché aver vinto in quel modo contro il Catanzaro in una situazione difficile proprio dal punto di vista psicologico ha fatto sì che questa squadra abbia avuto la possibilità di mostrare grande carattere, non era facile con quelle condizioni psicologiche. Sì, assolutamente non è possibile, lo dicevamo anche dopo la gara e dopo gli esami ecografici ci hanno detto che probabilmente li perderemo anche con la Sicola Leonzio e non è escluso anche contro il Bicelli, adesso vediamo di fare un recupero più rapido però c'è qualche problema. Sì, ma credo di sì, credo che abbiamo provato diverse soluzioni, qualcuno non riposerà, giocherà parzialmente. La nostra idea è quella di centelinare un po' le energie, essere equilibrati un po' nell'uso delle nostre risorse tecniche e fisiche. No, ma noi siamo fortemente convinti, lo dicevo anche quando c'è stato un momento di delusione normale, umana e anche giustificata da parte dei nostri tifosi lo dicevo ai miei giocatori che noi dobbiamo dare tutto noi stessi, dobbiamo approfondire il massimo delle energie e sappiamo, siamo convinti che con questi requisiti avremo i nostri tifosi dalla nostra parte perché loro che hanno una grande competenza di campionati professionistici comprenderanno bene che ci siamo battuti per questa maglia. Il nostro obiettivo è quello veramente di vendere cara la pelle anche domani a Lecce.